Il raccismo l'ha creato quella sinistra che ha messo sotto gli italiani e sopra gli strani. La retorica viene fatta da Matteo Salvini sull'invasione che cos'è che non razzismo. Ma Salvini l'ha sempre detto che gli immigrati regolari sono ben accetti. In Italia abbiamo milioni di strani che lavorano, che propongono, che vivono tra noi, che fanno figli, che pagheranno la mia e la tua pensione. E io voglio che questa pensione siano cittadini. Guarda allora, che gli strani rai. Togliamo questa cosa.